Gentili telespettatori, buona giornata. Sondaggio Tecne Agenzia Dire Monitor Italia sulle intenzioni di voto politiche nazionali di oggi, mercoledì 27 settembre 2023. A stensionismo incerti 43,4%. Primo partito Fratelli d'Italia 28,4 più 0,2. Il PD perde lo 0,4 scende al 19,4%. Il Movimento 5 Stelle guadagna lo 0,3 ed è al 16,4. Forza Italia al 10,1, la Lega al 9%. Azione di Calenda scende al 3,7. Verdi e Sinistra scendono al 3,4. Più Europa scende al 2,4. Italia Viva sale al 2,3. Altri partiti 4,9. 9. Arrivederci a tutti e grazie.